Stiamo salendo sul treno di Gandala Express e vi mostrerò la vista Si parte Questo è il prezzemolo Len Grazie Ciao 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 Questa era tutta la parte 3 E ricordatevi iscrivetevi al canale per fare il film dei sciocchietti Attivate la campanellina per non perdere nulla e lasciate un bel like E ricordatevi guardate tutte le altre parti e anche quelle che dovremmo ancora pubblicare Anche quelle di prima e ciao